Ragazzi ve l'avevo promesso ed eccoci qui l'immancabile flop parziale del 2024 i titoli che più mi hanno deluso durante questi primi sei mesi non necessariamente giochi brutti, semplicemente giochi che mi hanno detto poco che avrei desiderato più a fuoco, che avrei che avrei voluto forse un po' diversi sotto tanti punti di vista sarà come sempre una lista, non in ordine di preferenza o di di odio ecco, ma semplicemente una lista di prodotti che non mi hanno convinto in pieno, così, nei primi sei mesi allora io partirei da Silent Hill The Short Message, l'abbiamo portato tutto un titolo che onestamente più ci penso e più mi dispiace che sia stato costruito così perché? Perché è portatore di un sacco di messaggi importanti che avrebbe potuto sensibilizzare in maniera più convincente su tante questioni, senza fare spoiler, ma che di fatto si esaurisce in un minestrone di tante cose che alla fine non trasmettono poi granché credo che tanti temi siano stati banalizzati peraltro su un letto ludico molto poco entusiasmante piuttosto banale, impoverito anche da un'ottimizzazione tecnica ampiamente rivedibile, cioè un progetto che nel complesso ho trovato distantissimo dalla qualità che desidererei vedere in un Silent Hill è stato chiaramente un esperimento, lo testimonia anche il fatto che è stato offerto gratuitamente sul mercato però insomma credo che Silent Hill meriti un po' di meglio secondo titolo The Inquisitor ragazzi The Inquisitor si trospettava come un possibile The Witcher così in maniera molto più modesta, ma un piccolo Indy Cult che potesse ricordare i grandi nomi di fatto è stato tutt'altro gioco interessante nelle idee, ma nell'applicazione di queste idee ci sarebbe tanto da dire al di là della componente tecnica, che quella forse è il meno, è proprio il concept che purtroppo non funziona per ritmi, per qualità delle meccaniche le idee ripeto non mancavano, ma purtroppo sono state messe in pratica in maniera davvero molto molto rivedibile, dunque non posso fare a meno di metterlo in questa flop parziale così come con dolore ci metto anche Dragon's Dogma 2 ma non perché sia un brutto prodotto, vi ricordate, ve l'ho detto anche nella recensione ci sarebbe tanto da dire su Dragon's Dogma 2 di bello, e l'abbiamo detto nella recensione però non posso fare a meno di constatare quante e quali siano le occasioni sprecate per elevare il valore dell'opera verso nuovi e migliori standard è stato un titolo che mi ha divertito da pazzi e questo ragazzi lo rimarco cento volte a testimonianza del fatto che si può anche riconoscere il limite di qualcosa che adoriamo alla follia perché a me ha divertito tanto, però non posso fare a meno di riconoscere che sotto tanti punti di vista purtroppo non si è dimostrato all'altezza dell'anno in cui è stato proposto sul mercato, anche la gestione della parte finale molto rivedibile cioè è un titolo con un sacco di potenziale ma che è crollato sotto il peso di alcune scelte di design secondo me poco azzeccate e se volete sapere di più vi rimando alla recensione senza che adesso mi metto a rielencare tutto, però insomma al di là di tutto mi sarò anche divertito tanto e questo non l'ho mai negato però credo che si potesse fare tanto tanto di più forse Dragon's Dragon 2 è la più grossa occasione mancata di questo 2024 perché aveva tutto il potenziale per imporsi come una delle migliori produzioni di sempre e purtroppo non è riuscito secondo me ad arrivare dove sarebbe dovuto arrivare poi il quarto titolo anche qui, profonda delusione pur avendolo apprezzato, siamo sempre là gusto per sano è una cosa ma analisi dei fatti è un'altra Alone in the Dark ragazzi Alone in the Dark è la dimostrazione di quanto sia facile sbagliare qualcosa di apparentemente semplice nel senso che è un bel survival horror alla vecchia maniera con un sacco di spunti interessanti ma purtroppo cade sotto il peso di meccaniche davvero molto rivedibili di un'ottimizzazione non all'altezza dell'anno anche qui in cui è stato proposto sul mercato e in generale di meccaniche un pochino fuori dal tempo in termini di combattimento, in termini di interazione è un titolo alla vecchia maniera che sicuramente piacerà ai fan del genere ma che purtroppo non riuscirà ad andare oltre quella ristretta cerca di appassionatissimi ed è un peccato perché il potenziale considerato anche il cast c'era tutto poi quinto titolo e ricordo non in ordine di preferenza ma semplicemente una lista Sandland ragazzi l'opera di Akira Toriyama che è stata riproposta a grande pubblico con l'anime su Disney Plus e con appunto questo titolo un titolo che purtroppo non riesce a trasmettere grande magia un titolo che concettualmente non risulta così appagante che purtroppo non mi ha mai realmente divertito che ho giocato quasi per inerzia fino alla fine ma che avrei desiderato davvero in grado di trasmettere di più trasmettere di più dell'opera originale trasmettere di più dell'intensità che dovrebbe respirarsi in un contesto simile e di base anche le attività ludiche non le ho trovate così divertenti come avrei sperato sul profilo delle meccaniche proprio è un titolo che non mi ha divertito e peraltro piccola parentesi del tutto personale mi ha fatto vedere una motion sickness ragazzi devastante per una telecamera estremamente estremamente mobile per cui è un titolo che purtroppo non sono riuscito ad apprezzare e dunque l'ho destinato a questa nostra flop poi andando avanti Skull & Bones ragazzi il primo quadrupla di Ubisoft che di fatto ci ha lasciato con tanta amarezza e poche soddisfazioni un po' per un concept poco esaltante un po' perché di base le idee contenute in quest'opera non hanno mai avuto il sapore di qualcosa di realmente moderno di realmente fresco di realmente innovativo fatto sta che il risultato è stato un prodotto piuttosto piatto ecco che non ha saputo esaltare che non ha saputo affascinare Ubisoft adesso si è fatta carico di questo prodotto così particolare questa impostazione da game as a service che sarà motivo secondo me di grande sofferenza per coloro che dovranno lavorarci per i prossimi mesi se non anni ma che al pubblico non è mai realmente piaciuto purtroppo lo testimonia anche il modo in cui lo stanno cercando di spingere a botte di offerte ripetute è un titolo che purtroppo non ha fatto breccia nel pubblico ma che era chiaro che non avrebbe fatto breccia nel pubblico a fronte di quello che offre e mi sembra incredibile che Ubisoft non se ne fosse e non se ne sia accorta nel momento in cui lo ha sviluppato però ecco peccato perché non è tutto da buttare in scala di botte anzi certe cose sono molto riuscite le battaglie navali sono entusiasmanti divertenti ma non bastano per giustificare non solamente un prezzo di vendita del genere ma soprattutto tutto il clamore che si è fatto in prelancio i grandi proclami di Ubisoft e questo senza contare anche un comparto tecnico lontanissimo dagli standard che ormai il giocatore medio si attende per cui era veramente un fallimento annunciato e fallimento è stato almeno per il momento poi speriamo che nel tempo possa evolversi essendo un game to service i margini ci sono ma insomma per adesso le cose stanno così poi settimo titolo Suicide Squad Kill the Justice League ragazzi altro titolo che purtroppo non ha dato quello che il pubblico avrebbe desiderato e diciamo che l'idea di mettere Rocksteady a fare un titolo così ignorando un progresso clamorosamente apprezzato universalmente riconosciuto come straordinario non è stata una scelta secondo me proprio vincentissima ma resta comunque un progetto divertente in grado di offrire qualche momento di divertimento con gli amici ma di base non così entusiasmante vuoi per una ripetizione ossessiva dell'attività di gioco vuoi per un'evoluzione una progressione che non riesce mai a stupire realmente il titolo non ha fatto breccia nel cuore di tutti noi e di base ha portato a prevedibili delusioni dalle parti di Warren che è rimasta delusa dalle scarse vendite è anche lì che ti aspettavi verrebbe da dire ma insomma peccato perché anche questo è un titolo che prometteva benissimo che avrebbe potuto stupire se avessero fatto scelte diverse ma questo è stato l'anno dei prodotti se vogliamo destinati al fallimento chiaramente destinati al fallimento che sono stati messi sul mercato in piena consapevolezza che sarebbe stato un fallimento e poi ci sono stupiti che sono stati dei fallimenti io non capirò mai questa roba ma evidentemente chi ne capisce di più ne capisce di più poi ottavo titolo Foam Stars ragazzi Splatoon con la schiuma lo potremmo definire così un titolo multiplayer che in qualche modo voleva rievocare il successo di Splatoon a un pubblico diverso da quello Nintendo non ha saputo però far breccia nel cuore è una cosa che ricorre far breccia nel cuore dell'utenza ma è la verità ragazzi anche qui le premesse non erano così incoraggianti si vedeva lontano un miglio che non avrebbe conquistato chissà quanto pubblico e di fatto così è stato che poi avendoci giocato anche un po' non è un gioco malvagio ha il suo perché ha degli spunti interessanti a volte risulta anche divertente moderatamente divertente ma si esaurisce troppo presto l'impostazione ludica non offre tutto questo margine per dedicargli chissà quanto tempo e di conseguenza ha avuto vita brevissima ora non so neanche quanta gente sia rimasta a giocarci che futuro abbia in termini generali ma onestamente credo che si potesse fare tanto di più e nel caso in cui non ci fosse stata la voglia di fare tanto di più forse avrei destinato le risorse verso qualcosa di un po' più affidabile in termini creativi e commerciali poi ragazzi che vi devo dire allora cominciamo la parentesi dedicata alle Tony Cars dai Formula 1 24 uscito da poco titolo che in qualche modo ha confermato la straordinaria tradizione delle Tony Cars ovvero quella di uscite annuali con poco margine per rinnovare con poco margine per rinfrescare è un titolo in forte continuità come fatto visto in passato che in qualche modo non solo non si è fatto portatore di grandi novità ma ha dimostrato l'ormai evidente difficoltà di Tony Cars nel comprendere che il pubblico che riceve un prodotto ogni anno si attende delle modifiche si attende delle migliorie sostanziose non marginali e se contiamo il fatto che a lancio il titolo è stato anche bersagliato da critiche di ogni tipo da parte dei giocatori di vecchia data per un sistema di guida non all'altezza delle aspettative reso troppo se vogliamo commerciale dovremmo definirlo così diciamo che capisci quanto ormai la filosofia alla base delle produzioni di EA sia sempre quella andare a prendere quanto più pubblico possibile faticando il meno possibile un qualcosa che troviamo anche nel decimo ed ultimo titolo di questa flop parziale in cui metto un gioco uscito nel 2023 ma che è maturato nel 2024 ovvero FC24 primo titolo del nuovo corso targato EA è un titolo che proprio in virtù del rebranding avremmo desiderato diverso portatore di maggiori novità dopo averci passato praticamente quasi un anno posso dire con certezza che non è stato all'altezza delle aspettative del sottoscritto che mi ha profondamente deluso perché mi sarei aspettato tanto di più di questo avremo anche parlato credo a questo punto con un video apposito ma resta il fatto che metterlo in flop è una scelta inevitabile quasi obbligata proprio perché conferma quanto EA soffra sempre dello stesso problema partire dal presupposto che il pubblico tanto lo comprerà il prodotto per cui si può anche limitare il lavoro di rifinitura di no di ottimizzazione di perfezionamento di risoluzione dei bug tutta una serie di cose che ritrovi in gran parte dei loro prodotti a cadenza annuale tanto nella formula 1 quanto nel calcio e chissà per quanti anni ancora le cose andranno avanti così spero che prima o poi riescano a comprendere che le cose andrebbero fatte diversamente ma insomma quest'anno per adesso non è andata così per cui ragazzi questo è quanto io per adesso vi saluto come sempre vi invito a farmi sapere i vostri flop le vostre flop i vostri flop per quest'anno per questa prima parte dell'anno poi ovviamente ci rivedremo a fine anno per parlare di tutto quello che sarà successo insomma per adesso credo che un bilancio sia doveroso per cui aspetto di conoscere anche i vostri di conoscere anche i vostri Grazie a tutti.